Il G7 che Torino guarda con il binocolo. Bellissima vignetta che dice tutto. Di più dicono due pagine sul futuro del lavoro, la ripresa digitale, l'industria 4.0, l'appello dei vescovi per accendere i riflettori su giovani e poveri. E poi cerchiamo di capire il perché degli ultimi attacchi a Papa Francesco. Attenzione, dopo la tragedia di Piazza San Carlo e le nuove regole, paesi interi rinunciano a sagre e maxi incontri. Troppi lacci, troppe spese, come amati e nole. Qualcosa non funziona. Comune di Torino, perché si vende? Ci scrivono l'assessore, risponde l'opposizione. In Europa le conseguenze della vittoria della Merkel sull'Italia e le sorprese della nuova legge elettorale. Il Cardinal Bassetti alla sua prima uscita alla CEI, lavoro, povertà, immigrati. Scrittori laici riscrivono la Bibbia. Come trasmettere la fede ai ragazzi? Due grandi questioni culturali. Continua il nostro viaggio nei movimenti i 400 anni della San Vincenzo. Ci scrive la dottoressa Baldelli, procuratore dei minori, perché mancano le risorse. Canti in chiesa, altre proposte. Oratori. A Parella arrivano i nuovi campetti di Sant'Anna. Carmagnola, San Bernardo, il cortile, fa 70 anni. Cirie, l'oratorio diventa una fattoria. Valdocco, il primo ottobre, festa di inizio anno con il nuovo direttore. Provincia, Volpiano, neanche i cinesi salvano la Comital. 138 lavoratori ancora a rischio. Moncadieri, Carmagnola, il no dei sindaci all'ospedale unico in località Cenasco. Arriva la legge sui piccoli comuni. Nuove opportunità per 800 municipi piemontesi. La voce è il tempo, l'altra campana.